Monta la rabbia della popolazione che deve vivere senza acqua ormai da due settimane. L'Associazione Unione Consumatori Nazionali, sezioni di Messina, prepara l'azione collettiva contro l'AMAM. Il presidente Mario Intelisano chiarisce che tutti i cittadini possono partecipare. Tra i titolari di utenze individuali e consumatori, sono 80.000 gli utenti che possono presentare istanza alla sede di via San Filippo Bianchi 48, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 11.30 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16 alle 18. Si può anche scrivere all'indirizzo mail amamclassaction.consumatori.messina.it Siamo l'associazione che ha promosso la Class Action. La Class Action è lo strumento per i consumatori e fatto dai consumatori. Quindi è lo strumento migliore per poter lamentare questo disagio e questo indennizzo. È un'azione collettiva. L'associazione si limita solamente a rappresentare i consumatori. Quindi non fa altro che portare le loro istanze e i loro danni davanti a un tribunale affinché venga liquidato questo danno che sia in misura uguale per tutti, che non ci sia gente che prenda di più e gente che prenda di meno. È un'azione comunque economica. Il costo è solo 5 euro che è il costo di iscrizione all'associazione e nessun'altra spesa, né oggi né domani. Quindi questa è una garanzia che noi vogliamo dare. Non si tratta di spendere Marche da Bollo, non si tratta di spendere niente. È un'azione rapida. Il tribunale in un anno e mezzo o due dovrebbe determinare l'indennizzo. È un'azione in cui potremmo portare tutto ciò che c'è, tutto il materiale che abbiamo a disposizione. Le riprese video, le dichiarazioni delle persone, i disagi che hanno subito, che voi come stampa avete comunque sempre visto. Avete quantificato il risarcimento? Noi abbiamo determinato, ma è una determinazione che abbiamo fatto noi in questo momento, se la situazione è peggiora ovviamente sarà diverso, un indennizzo giornaliero in 25 euro per persone, tra virgolette, normali e per situazioni di estremi disagio riteniamo che l'isarcimento debba essere raddoppiato, 50 euro al giorno. Se fate conto, una famiglia di 4 persone con una persona anziana sono stati 7 giorni di risarcimento, la somma potrebbe essere 500, 600, 700 euro a famiglia. Si è assistito a un rimpallo di responsabilità sconcertante. Sì, questo sì, ma ai consumatori questo non importa. La responsabilità è per noi del soggetto che gestisce il servizio idrico, l'AMAM. Infatti la causa verrà fatta contro l'azienda AMAM, perché la classification si può fare solo contro le aziende e contro nessun altro. L'AMAM aveva garantito anche nella carta dei servizi che in caso di mancanza di una fonte di approfiggionamento, quindi un acquedotto, avrebbe comunque dato l'acqua con gli altri acquedotti a disposizione, Alcantara e Santissima. Purtroppo abbiamo visto che non è stato così. L'Alcantara era rotto da 4 anni e nessuno aveva fatto molto o tanto per ripristinarlo. L'acqua della Santissima si è compreso che per un plevatecchio non poteva essere portata nelle altre parti della città. E quindi abbiamo una città che ha l'acqua e un'altra città che non ha l'acqua. E tutti sono abbonati, comunque utenti, dello stesso servizio idrico e pagano la bolletta regolarmente.